Non approvando il bilancio, il Consiglio Comunale andrebbe a casa e la Regione nomina un commissario che per i prossimi anni sarà assieme al Sindaco a guidare questa città. È un paradosso, ma è così. Voi avete analizzato nel dettaglio tutti i documenti in merito al bilancio. Cos'è che non va? Noi come Commissione lo ribadiamo da molto tempo. Noi siamo convinti che nel corso degli anni qualcosa di anomalo c'è stato. Quest'anno abbiamo avuto il coraggio, anche se dovrebbe essere una normalità, quello di dichiarare tutto quello che abbiamo riscontrato in queste anomalie. Quindi i debiti delle partecipate. Abbiamo fatto diversi incontri con le società partecipate, tra cui la più importante, che è quella dell'architetto Robilatte, che dirige la GELAS, dove ha dichiarato che c'è un debito che ammonta 4 milioni di euro. Abbiamo parlato con il commissario liquidatore del lato, che ci conferma i debiti di 13 milioni, mentre la parte politica dell'amministrazione non ha accettato queste dichiarazioni dei commissari, che comunque ci hanno ribadito questi debiti. Ma noi rimarchiamo su un punto che, a mio parere e a parere della Commissione, è il punto più importante, che è quello relativo al capitolo dei rifiuti. Sappiamo benissimo che ammonta un debito di circa 2 milioni per quanto riguarda la fatturazione della tecla e noi, come Commissione, abbiamo esitato sia queste fatture, ma soprattutto ci siamo soffermati sulla Tari. Sulla Tari perché quest'anno in bilancio l'amministrazione ha aumentato la tariffa. Una tariffa che non può essere aumentata perché la legge ci impone di cambiare l'eventamento in Consiglio Comunale entro il 30 aprile. Bene, questo non è stato fatto e l'amministrazione ha aggiunto che nel bilancio 2016-2017-2018 ci sarà un aumento da 7 a 11 milioni. Questo poi è stato rettificato dall'attuale amministrazione con una diminuzione di un milione e mezzo, ma resta il fatto che ci sono sempre due milioni e mezzo in più nel Tari. Voi avete questa sera il Consiglio Comunale che si occuperà proprio di questa vicenda. Dunque ricordiamo, ribadiamo, se il bilancio non dovesse essere approvato si va a casa. Sicuramente, è un atto di responsabilità. Io onestamente come partito politico, soprattutto perché il lavoro da Presidente è quello di coadiuare una commissione, ma come espressione politica di Forza Italia io voterò no al bilancio, consapevole del fatto che se non verrà approvato andremo a casa.